Un'idea, un progetto, imballò da quasi 20 anni e forse adesso, o meglio, dal prossimo anno, il centro commerciale di Zafferia inizierà a vedere la luce. È stato presentato stamattina a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco De Luca e degli assessori Mondello e Musolino, il progetto del centro commerciale di Zafferia spiegato alla stampa direttamente dalle aziende incaricate della realizzazione. L'amministratore unico di ITC Pietro Griffini, il dottor Carlo Ignazio Fantola della CCR SRL, l'architetto Corrado Rossetti, amministratore delegato della società che ha curato il progetto, hanno esposto ai presenti numeri e mosse verso la realizzazione di un centro commerciale che sembra quasi una chimera e di cui si parla da 20 anni. 55 negozi, un ipermercato, 2400 posti auto e soprattutto un raccordo autostradale che andrà a collegare il polo commerciale direttamente alla tangenziale per non congestionare ulteriormente il traffico della zona sud. Soddisfatta l'amministrazione per il passo avanti che garantirà un'ulteriore riqualificazione del tessuto urbano della zona sud a cui si aggiungerà la realizzazione e la sistemazione del porto di tre mestieri. Ci vorrà però almeno un altro anno per avviare i cantieri tra tempi tecnici e burocrazia, mentre per l'apertura dei negozi ovviamente se ne parlerà ancora più avanti, forse tra 2024 e 2025.